Il mare, puntiamo sul mare e sull'ambiente, l'ambiente, le potenzialità dal punto di vista della tutela, ma anche dal punto di vista dello sviluppo, dell'economia, il mare senza sponde, il mare senza confini. Abbiamo varato il più grande progetto di tutela ambientale, più di 300 milioni di Euro per tutelare l'ambiente, per dare al mare le sue grandi potenzialità dal punto di vista anche economico. Lo abbiamo fatto con 250 milioni di Euro destinati solamente alla depurazione, però abbiamo già fatto i primi interventi, abbiamo recuperato quest'anno 32 chilometri di costa per la balneazione. Il mare è un grande investimento, non solo perché tutela e ambiente, ma anche perché attorno al mare, il mare è sviluppo economico, integrazione e cultura.